Da oggi e fino alle 12 di giovedì 28 marzo è possibile votare al sondaggio popolare indetto dal Comune di Campobasso per l'intitolazione dello stadio di Contrada Selvapiana. Il voto è riservato ai residenti nel capoluogo che abbiano compiuto i 16 anni di età. Per esprimere la propria preferenza basta recarsi sul sito ufficiale comune.campobasso.it e cliccare sulla sezione riservata all'intitolazione dell'impianto sportivo, inserendo il numero del documento. Le opzioni sono quattro, stadio al presidente Tonino Molinari e Curva Nord al capitano Michele Scorrano, stadio a Scorrano e tribuna a Molinari, doppia denominazione Molinari Scorrano oppure l'eroe di guerra Giovanni Romagnoli. È possibile esprimere una sola preferenza e naturalmente si può votare una sola volta. L'amministrazione comunale si è espressa nei giorni scorsi tramite gli assessori Praetano e Creterla per l'intitolazione a Molinari dello stadio e conseguente formalizzazione della Curva a Scorrano, sentimento che sembra comune in molti cittadini, ma in tanti vorrebbero dedicare l'impianto all'indimenticato capitano. La votazione andrà avanti, come detto, fino a giovedì. Il risultato del sondaggio potrebbe arrivare già entro la settimana, al più nei primi giorni della prossima. Dopodiché la Giunta prenderà atto con un'apposita delibera. Si conta in una grande partecipazione per dare ancora più forza a una consultazione che giustamente coinvolge la cittadinanza campo-bassana. La Società del Campobasso assicura a chi dovesse averne bisogno il necessario supporto per le operazioni di voto presso lo store di Corso Vittorio Emanuele, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20 a partire da martedì 26 marzo.